Inviare due foto, curriculum e showreel. What do you say? Cos'è lo showreel? Lo showreel di un attore è una raccolta di scene di quel particolare attore. Queste scene devono mostrare quanto sei bello, bravo e unico. In questo video ti dico come realizzare il tuo showreel e come per il video sulle agenzie di spettacolo ti aiuto ad evitare le fregature dei soliti furfantelli. Scappa. Scappa senza voltarti. Lo showreel è piuttosto importante nel mondo della recitazione cinematografica perché se sulle foto puoi vedere l'attore in posa nello showreel puoi capire l'attore come recita. Ma prima ancora che inizi a pensare di realizzare il tuo showreel è bene che tu faccia attenzione ad un po' di cose per evitare che il tuo video non ti faccia risaltare come meriti o peggio che non sia nemmeno guardato. La corazzata con John King è una cagata pazzesca! Occorre tu faccia attenzione a durata, scene, colleghi. So che tu passeresti la giornata a guardarlo ma per i casting director non è così. Preparare uno showreel da otto minuti è il modo migliore per sembrare dei dilettanti e per scoraggiare anche il casting director più agguerrito a premere play. Un video da un minuto e mezzo è più che sufficiente avendo però un'importante accortezza. Le scene migliori devono essere messe all'inizio. Non puntare mai sul gran finale perché quasi nessuno arriverà a vedere il tuo showreel fino alla fine. occorre che catturi subito l'attenzione di chi guarda il video. Se catturi l'attenzione immediatamente forse, ma dico forse, qualcuno potrebbe arrivare anche alla fine del video. Ma forse. Sempre per calare le cose nel mondo reale una volta sono stato in una specie di agenzia di attori che mi ha proposto di realizzare con loro il mio showreel. L'occasione da non perdere quella volta era showreel da otto minuti per ottocento euro. Ehi, sono sette dollari, amico. Per una coca? Io non li ho mai avuti sette dollari. Sono certo che questa agenzia esiste ancora, quindi... occhio. È chiaro che il lavoro debba essere pagato, ma non facciamo confusione tra un'agenzia per attori e professionisti del montaggio video. Quali scene mettere è forse la cosa più difficile, essendo il tempo così limitato, devi puntare sul meglio del tuo meglio. E siccome a te, come a qualsiasi attore, mancherebbe l'oggettività necessaria, fatti aiutare da qualcuno, un parente oppure il tuo agente. Il tuo agente è sempre crudele, cattivo, soprattutto se è una donna. Ciao, ma che brava è tua figlia? Direi molto più brava di te. Se non hai mai recitato per la macchina da presa, potresti girare qualche scena appositamente. Il come farlo è un altro paio di maniche. Non mettere, ripeto, non mettere scene in cui ci siano tuoi colleghi attori del tuo stesso sesso o della tua stessa età. Perché? Prova a farti queste domande. Quale attore deve sembrare unico nel video? Sei così mostruosamente più brava, più bravo, degli altri attori coetanei del tuo stesso sesso nel video? Sei così mostruosamente più bella o più bello degli altri tuoi colleghi coetanei nel video? Se non è così? E ti garantisco al 99,78% dei casi che non è così? Esatto, 99,78% per esempio. Oh, bravo! Ok, quindi non è 100%? Beh, gli scienzi non mi piace sempre dire 100%. È meglio che tu metta scene in cui reciti con qualcuno di molto più grande o molto più piccolo o con qualcuno che non è del tuo stesso sesso. Lascia il tuo commento se hai qualche domanda o se anche tu hai ricevuto la proposta di realizzare il tuo showreel da 8 minuti per 800 euro. Questo video è supportato da Artisti7607. Se vuoi sapere cosa fanno per gli artisti, lascio il link in descrizione. Prossimamente ti insegnerò come realizzare da sola o da solo il tuo showreel. Nel frattempo, metti un like a questo video. Questo layout di camera mi piace un casino con la roba un po' in campo. C'è capito un cazzo? Non funziona? Certo, sono io che mi sposto. Vincami alla luce. Figata, sono un genio. Genio, genio.